La Regione Molise si candida a diventare sempre più un territorio green. Le opportunità di crescita e sviluppo vengono incrementate grazie all'opportunità del Parco Nazionale del Matese. Considerazioni queste presentate con soddisfazione dallo stesso Presidente della Regione Donato Toma, che ne ha parlato oggi a Campobasso insieme all'Assessore alle Politiche Agricole e all'Ambiente, Nicola Cavaliere. Con la perimetrazione del Parco, che comprende una quindicina di comuni da Sepino a Monteroduni, si è completato la prima parte di un percorso complesso. Il Presidente Toma è convinto della positiva ricaduta che questa iniziativa avrà sull'intero territorio regionale. Su questo argomento però non sono mancate anche le polemiche riguardo alcune zone escluse dal progetto, come la zona di Campitello Matese. Su tale questione, Toma ha ribatito il suo impegno per il potenziamento degli impianti sciistici con i fondi del CIS e altri 8 milioni che presto verranno sbloccati.